Musica Cambieranno i tempi d'attesa per il divorzio, non si dovrà più attendere tanto, ma sei mesi con la consensuale, dodici mesi davanti al giudice. Abbiamo ascoltato le persone, il dillo a noi di oggi. Il divorzio c'era già, questa è una legge che alcuni hanno definito contro la famiglia, secondo me invece è una legge che evita che ci sia un logoramento ulteriore quanto il rapporto è ormai irrimediabilmente compromesso. E comunque da quello che si legge sulla stampa non c'è dubbio di sorte che sia un criterio di civiltà. Quando due persone non stanno più bene insieme il matrimonio per la parte civile è opportuno che regoli questa fine di una relazione. Sono scelte, si potevano prevedere anche altri tempi di meno o di più, ma insomma non ne farei un motivo di lotta religiosa o di lotta civile sul punto. È irragionevole che quando una relazione finisce ci siano tempi e forme semplificate per la chiusura. Sono punti di vista, c'è chi vuole divorziare e non vede l'ora di divorziare e quindi la prende bene. Certo sono decisioni importanti, è un legame, chi si sposa lo fa per prendere facendo un patto. Una volta che si prende la decisione o prima o tardi va bene se si vuole interrompere subito un legame. C'erano situazioni terribili, devastanti, delle cose lunghe, in matrimoni difficili, complicati, è una cosa civile. Per me quando due si devono lasciare si lasciano a punto e basta. Se non vanno d'accordo è inutile che si continua a insistere sul matrimonio se non c'è.